La Duc di Preturo lancia il progetto per la realizzazione degli orti urbani e sociali, anche se al momento c'è molto malumore nell'associazione per la sentenza del TAR che in merito alla situazione del carcere alle costrelle di Preturo in pratica non decide e dice che i tempi non sono maturi. In sostanza c'è una porzione di terreno del carcere occupato senza titolo che è di proprietà degli usi civici, ma ad oggi una posizione chiara non c'è. E' ovvio che non si andrà ad abbattere nulla, ma gli usi civici si aspettavano che il TAR decidesse fosse ottemperante per costringere poi il demanio a sedersi al tavolo con loro per trattare una storia che va avanti ormai da lunghissimi anni. Noi dal TAR aspettavamo una sentenza o un'ottemperanza ad una sentenza del 2014 e il TAR si esprime, lo leggo in modo tale da non commettere errori, il collegio rileva che la causa non appare ancora matura per la decisione, è uno simolo, una richiesta di ottemperanza, vuol dire dare corso a ciò che altri hanno già deciso e quindi tutto questo connota un allungamento ulteriore dei tempi e di nuovo tutto dall'inizio. L'associazione è stata accolta per oggi a Palazzo Fibboni per presentare un progetto importante per la concessione e l'uso degli orti urbani o sociali, rivolto a residenti delle frazioni vicine ma anche ai cittadini del Comune dell'Aquila, fatto allo scopo di riavvicinare le persone all'uso della terra e confini di socializzazione, appezzamenti di terreno assegnati alle comunità attraverso un bando che raccoglierà le manifestazioni di interesse per l'assegnazione di 20 orti sociali. Entro il 30 novembre 2023 già ci sono state una decina di domande. Una bellissima iniziativa fatta dalla Ducca di Preturo che mette a disposizione dei terreni per i cittadini residenti per realizzare degli orti sociali, degli orti urbani con cui riavvicinare i cittadini alla terra. È comunque una forma indiretta di sostegno al territorio, alle famiglie, è anche una forma di uso dell'agricoltura in termini più urbani. Ovviamente non è rivolto alle aziende ma è rivolto a quei cittadini che vogliono intraprendere questo tipo di iniziativa.